Morore TV vi presenta Oppi Pane, pane di Matera, che è un pane che dura 100 giorni, senza conservanti, senza aggiunta di niente, lavorato a mano, lo potete tenere a casa per 100 giorni, dimenticate che avete comprato il pane, se vi serve il pane vi farà una buona bischietta, oppure quant'altro. Oppi Pane, un pane che dura 100 giorni, che è la forma classica, questa che vedete che è a forma di cornetto, dura 100 giorni, un pane senza conservanti, basta tenerlo a temperatura ambiente, abbiamo due formati, il formato in scatola da 300 grammi, credo, e abbiamo un pane di 700 grammi che andiamo adesso a informare. Inforniamo a 200 gradi già preriscaldato il forno, per 15 minuti e lo lasciamo raffreddare. Grazie a tutti. 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 colore della parte interna del pane. Adesso ci prepariamo una pella con il pomodoro, questo è il pane di natura e adesso facciamo il pane grande ottima